Quinta domenica dopo l'Epifania. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, il Signore Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Ed egli rispose «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò davanti a lui, dicendo «Signore, aiutami!» Ed egli rispose «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore!» disse la donna «Eppure i cagnolini mangiano le bricciole che cadono dalla tavola dei loro padroni!» Allora Gesù le replicò «Donna, grande è stata la tua fede! Avvenga per te come desideri!» E da quell'istante sua figlia fu guarita Parola del Signore «Miei cari, il motivo principale per cui Gesù compive i miracoli era per stimolare la fede della gente in lui come figlio di Dio inviato dal Padre e dallo Spirito Santo per la salvezza degli uomini. I miracoli mostrano infatti l'onnipotenza di Dio la sua superiorità nei confronti degli uomini e della natura mostrano la sua divinità Gesù compie i miracoli perché essendo Dio è onnipotente Solo Dio può compiere i miracoli Tutte le altre creature, comprese la Madonna e i Santi possono solo intercedere presso Dio perché compia i miracoli L'abbiamo visto nell'episodio delle notte di Cana La Madonna intercede perché Gesù tolga dall'imbarazzo quegli sposi Ma è Gesù che muta l'acqua in vino Nel miracolo della tempesta sedata sulla quale ci siamo soffermati domenica scorsa gli apostoli impauriti della tempesta svegliono Gesù ed è lui che calma il vento e le acque e fa tornare la bonaccia Così nel miracolo riportato dal Vangelo di oggi detto della Donna Cananea a seguito delle suppliche della Donna e degli Apostoli Gesù guarisce la figlia posseduta da un demonio È dunque Gesù che compie i miracoli Ma possiamo anche dire che è la fede in Gesù che li provoca La fede è la chiave che apre il cuore di Gesù che può ottenere tutto dal Signore Gesù ha detto che se avessimo fede quanto un granellino di senapa potremmo spostare le montagne Sulla fede di questa donna vorremmo fare qualche riflessione La prima Anzitutto è una donna cananea proveniente cioè dalla terra di Canaan Una terra che si affaccia sul fiume Giordano e che gli ebrei hanno dovuto attraversare per giungere alla terra promessa in Palestina che è confinante con la terra di Canaan I cananei erano dei pagani adoratori della natura e quindi un po' temuti dagli ebrei che credevano invece nel Dio rivelato da Mosè La donna cananea era dunque una pagana una lontana dalla fede cristiana Forse aveva sentito parlare di Gesù di Nazareth che compiva i miracoli ed era venuto ad incontrarlo per chiedergli la grazia di guarire suo figlia tormentata dal demonio Questo fatto ci deve rendere consapevoli che la fede per noi cristiani è un dono e un privilegio avendo essi ricevuto il battesimo ma non è una esclusiva dei cristiani perché si può trovare anche nei non cristiani in persone che apparentemente sono lontane da Dio mentre interiormente possono essere più vicine di noi perché lo Spirito Santo soffia dove vuole quando vuole e come vuole desiderando la salvezza di tutti gli uomini Per questo dobbiamo stenerci dal giudicare gli altri che non frequentano la Chiesa come noi che non praticano la fede come noi che si comportano in modo diverso da noi perché non sappiamo quello che avviene nel loro animo Gesù ha detto che saremo giudicati sull'amore Venite benedetti perché avevo fame e vi avete dato da mangiare Andate maledetti perché avevo sete e non mi avete dato da bere E quanta gente ama Dio e il prossimo più di noi e meglio di noi pur non essendo cristiani Il nostro compito semmai è quello di pregare perché tutti giungano ad una fede esplicita alla fede battesimale Seconda riflessione La fede per essere vera e autentica deve essere provata Il libro della Sapienza dice che i giusti devono essere provati come oro nel crogiuolo La fede facile, la fede intellettuale la fede che non coinvolge la vita non è fede vera Credere quando le cose vanno bene quando tutto si svolge secondo i nostri progetti umani è facile Ma credere quando capita una malattia una disgrazia, un lutto non è facile La fede autentica si manifesta nei momenti della prova La donna cananea è un esempio commovente di questa fede provata Rileggiamo il fatto La donna si rivolge a Gesù gridando Pietà di me o Signore E Gesù non fa una piega non la rivolge neppure a una parola Intervengono i discepoli implorando Esaudiscila perché ci vieni dietro gridando Gesù sembra fare lo scontroso ed ha una risposta scoraggiante Non sono venuto se non per le pecore perdute di Israele Ma la donna non si perde d'animo Si avvicina si prostra davanti a Gesù e lo supplica Signore aiutami Gesù quasi con un senso di disprezzo verso la donna continua Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini La calenea all'estremo delle sue possibilità ribatte È vero ma anche i cagnolini mangiano le bricciole che cadono dalla tavola dei loro padroni Gesù commosso da tale risposta replica Donna Grande è la tua fede Avvenga quello che desideri E da quell'istante la figlia fu guarita Questa è la fede vera la fede provata la fede che noi tutti dovremmo avere A proposito di fede provata vorrei accennare ad alcuni fatti accaduti in settimana che la televisione ci ha mostrato e che hanno turbato molti cristiani Il fatto di alcuni vescovi che non sono in sintonia con il Papa e di alcuni sacerdoti che non si comportano come dovrebbero eccetera Alcuni hanno detto ci fanno perdere la fede se si comportano così loro noi che cosa dovremmo fare? In un certo senso avete ragione perché gli ecclesiastici hanno il dovere di dare buon esempio al popolo di Dio quindi non possono essere assolutamente giustificati ma devono essere oggetto di comprensione perché sono uomini e quindi peccatori come tutti gli appartenenti alla Chiesa La Chiesa è santa non per le persone che la compongano ma per la presenza di Gesù il Santo per eccellenza Gesù ha anche detto che è necessario che avvengano gli scandali ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato Gli scandali quelli a cui ci siamo riferiti come altri invece di indebolire la nostra fede devono rafforzarla invece di scandalizzarci dobbiamo confermarci maggiormente nelle nostre convinzioni e pregare Signore noi crediamo ma aumenta la nostra fede La fede vera si manifesta nell'amore di Dio e del prossimo La fede vissuta egoisticamente non è fede autentica La fede devo sfociare nella carità nella solidarietà nella condivisione Oggi si celebra nella nostra diocesi la giornata della solidarietà Quest'anno l'attenzione è rivolta alla crisi economica e sociale che incomincia a farsi sentire fortemente non solo all'estero ma anche in Italia e Lombardia con licenziamenti e cassa integrazione mettendo a rischio anche la nostra comunità di Linate Lodevole e lungimirante è stata l'iniziativa dell'Arcivescovo lanciata nella notte di Natale di costituire un fondo diocesano famiglia e lavoro per andare incontro ai casi più pietosi di famiglia in difficoltà Il fondo che attualmente costa di due milioni e mezzo di euro uno dei quali messo a disposizione dell'Arcivescovo verrà gestito oculatamente dalla Caritas e dalle Acli Anche noi daremo il nostro contributo per la buona riuscita dell'iniziativa Conclusione Mercoledì 11 febbraio sarà la festa della Madonna di Lourdes in ricordo della prima apparizione avvenuta l'11 febbraio 1858 1858 a Bernardetta Subiru Quelli che sono state a Lourdes conserveranno un ricordo vivissimo della grotta di Massabiel e del Cachot la vecchia prigione di Lourdes diventata casa della famiglia Subiru per parecchi anni la famiglia la famiglia Subiru era una famiglia povera ma dignitosa e quindi l'emblema delle nostre famiglie in difficoltà per la crisi in atto la Madonna e Santa Bernardetta benedicano e le aiutino con la nostra collaborazione a superare questo momento difficile mercoledì poi pregheremo anche per gli ammalati ai quali è dedicata la trentadunesima giornata mondiale del malato soprattutto per i bambini ammalati alla Madonna e a Santa Bernardetta vogliamo affidare anche la giovane Eluana Inglaro diventata figlia e sorella di tutte le famiglie italiane sulla sua situazione si è detto e scritto tutto anzi troppo per cui come ha suggerito il presidente della CEI ora è il momento di tacere di riflettere e di pregare grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.